buonasera a tutti e bentornati in questo spazio del mercoledì mindset come vedete questa settimana non non facciamo una live ma vi abbiamo condiviso una video pillola perché non vogliamo lasciarvi mai soli e e oggi il tema è l'apprendimento soprattutto ovviamente legato al trading perché perché chi parte in questa avventura di voler diventare un trader la prima cosa ovviamente che deve fare deve deve scontrarsi con l'apprendimento cioè deve imparare non a caso proprio oggi mi ha condiviso questa frase un nostro lifetime platinum il nostro amico claudio che saluto e che mi ha mandato proprio un pensiero stamattina ha detto che questo gli faceva venire in mente me ed è molto in linea con quello che è il tema appunto che affronteremo oggi questo pensiero a questa frase di cesare perese un grande autore scrittore italiano che diceva bisogna cercare una cosa sola per trovarne molte ecco da questa frase lo spunto ci sono due spunti che riguardano gli obiettivi quindi cercare una cosa o meglio trovarne molte e il focus quindi gli obiettivi e il focus non a caso ecco perché andava proprio a fagiolo io nel percorso digitale quello che abbiamo sul nostro sito il mindset del price action trader una delle slide diciamo che io ho messo a disposizione di chi ha preso il corso è quella legata proprio agli obiettivi e il focus che nelle varie fasi del trader io le ho chiamato le ho individuato quattro fasi del trader che vi metto qua e non scendiamo nel diciamo nel dettaglio perché altrimenti ci vorrebbe troppo tempo e il video verrebbe troppo lungo ebbene come vedete le quattro fasi che ho individuato cioè il trader neofita appena si approccia poi apprendista quando ecco come chi va da un da un artigiano a imparare un mestiere diventa un apprendista cioè sta imparando sul campo poi la terza fase è quella del trader consapevole e l'ultima è quella del trader esperto cioè che è una persona che ormai sa esattamente quello che sta facendo chiaramente la maggior parte delle persone che magari o quelli che fanno parte del platinum o quelli che magari guardano questi video sono persone che stanno comunque agli inizi e vogliono e vogliono diciamo imparare ecco qual è un errore che io ho notato comune che mentre loro vogliono imparare non lo so perché ma controintuitivamente fanno trading cioè la maggior parte dei trader che parte all'inizio non parte con l'obiettivo l'apprendimento guardate qua l'obiettivo questo è il trader neofita l'obiettivo e il focus dovrebbe stare sull'apprendimento apprendimento apprendimento quindi loro invece che cosa fanno tradano direttamente e la maggior parte ovviamente come sappiamo bruciano i conti ma perché succede questo succede perché per come è strutturato il nostro cervello io di questo gli amici del platinum lo sanno perché ne parliamo spesso per come è strutturato il nostro cervello se noi mettiamo un'operazione a mercato il nostro cervello non è completamente focalizzato sull'apprendimento perché perché una parte del nostro cervello quello un po più anziano quello un po più vecchiotto che come che noi chiamiamo cervello rettile è focalizzato per lui l'importante è guadagnare e non apprendere perché lui è legato a all'essere venale al cercare di vincere di avere ragione quindi l'obiettivo di chi invece vuole imparare se l'obiettivo è imparare all'inizio vi dico non tradate non fate trading parlo di trading in reale ma nemmeno il demo perché non serve a nulla vi dico all'inizio focalizzate la vostra attenzione come avete visto da questa slide guardate che vi ho messo a disposizione sull'apprendimento teorico teorico e non pratico teorico di conoscenze tecniche e della mentalità cioè dovete per esempio per chi è iscritto al platinum capire quali sono le dinamiche che portano a prendere le decisioni che per esempio arduino io mettiamo in atto durante diciamo le nostre operazioni quindi in quella fase nella fase iniziale l'obiettivo deve essere quello di apprendere la parte teorica e quindi conoscenze tecniche e mentalità poi dopo dopo sei mesi dopo un anno poi ognuno ha il suo tempo dopo un po di mesi un po di tempo allora potete passare nel momento che avete ben capito quali sono le dinamiche del prezzo la metodologia che state apprendendo allora si inizia ad aprire un conto questo è il mio consiglio si inizia ad aprire un conto magari non anche 5 mila euro non troppo piccolo ma nemmeno troppo grande in modo da iniziare a fare un apprendimento esperienziale perché lì poi bisogna andare a lavorare su quelle che si chiamano le memorie emotive perché lì poi dopo ci sta anche la parte emotiva perché in quella nella prima fase si apprendono le questioni tecniche nella seconda fase l'apprendimento esperienziale serve proprio per imparare a gestire emotivamente l'operazione ed è lì che poi si gioca la partita ancora qui con questo tipo di situazione di conto un conto piccolino man mano bisogna fare esperienza anche qui ancora altre sei mesi un anno anche di più prima di piano piano capitalizzarsi quindi è questo il percorso che a mio avviso può essere più efficace per veramente imparare a fare trading e non semplicemente andare a fare tentativi buttare soldi aprire conti e bruciarli perché non si hanno le competenze la maggior parte dei conti vengono bruciati perché le persone senza competenze pensano di imparare facendo non è così bisogna prima imparare almeno le conoscenze base e poi iniziare a lavorare con un conto altrimenti quello che stiamo facendo in effetti è un gioco ok vi lascio con ovviamente la frase di cesare pavese ma anche con le keywords di questo diciamo di questa pillola che sono appunto l'apprendimento l'obiettivo il focus e soprattutto il non tradare se l'obiettivo e il focus sono l'apprendimento ci vediamo al prossimo video e al prossimo mercoledì ciao a tutti